Dobbiamo continuare a considerare che questa è una partita aperta. Il Covid non è sparito, non ha preso un'astronave scomparsa, è un problema che ancora abbiamo, ma abbiamo strumenti nuovi per affrontarlo, in modo particolare i vaccini. EMA in una giornata di ieri ha dato l'ok a vaccini aggiornati, AIFA si pronuncerà il 5 di settembre e l'auspicio è che dalla metà di settembre si possa iniziare quest'altro pezzo della campagna di vaccina.